Il 2022 è stato un anno critico per le risorse idriche, una grande siccità che ha colpito tutto l'asse dell'Adda e dell'Ario e le conseguenze che ha avuto anche sulle attività produttive e sull'agricoltura. Ne parliamo con l'assessore agli enti locali e i piccoli comuni Massimo Sertori. Innanzitutto un anno straordinario, che cosa ha fatto Regione Lombardia per cercare di mitigare questa situazione? Sì, effettivamente è un anno straordinario. Noi siamo partiti con la stagione in rigua con una disponibilità di meno 63% della risorsa idrica. La risorsa idrica viene quantificata sommando la neve che c'è in montagna, l'acqua che c'è negli invasi idroelettrici e l'acqua che c'è nei laghi. La somma di queste tre componenti rispetto agli anni di riferimento che sono 2006-2022 era mediamente sotto il 60%. Con il Presidente Fontana abbiamo deciso di cercare di preservare con la poca risorsa idrica che c'era almeno il primo raccolto e questo abbiamo fatto e in questa direzione ci siamo mossi e devo dire che a consuntivo, pur in mezzo a tutte queste difficoltà, con la collaborazione di tutti, siamo riusciti a salvare almeno il 70% circa del primo raccolto. Quindi partendo con una risorsa idrica così scarsa è sicuramente stata una cosa importante. Naturalmente ci sono stati dei sacrifici da parte di tutti. La Regione Lombardia ha coordinato tutto questo perché sappiamo che la risorsa idrica intanto abbiamo capito che non è una risorsa infinita, ma ne è limitata e certamente gli eventi climatici ci porteranno a doverci confrontare ancora con questa situazione. È chiaro che fin tanto che c'è acqua che ce n'è per tutti, problemi non ce ne sono. Quando ce n'è poca gli interessi non convergono più, ma si contrastano l'uno con l'altro. Il lago ad esempio di Como ha raggiunto un meno 40% che è la quota più bassa in assoluto e questo ovviamente può provocare dei problemi di stabilità, problemi di navigabilità, problemi al turismo. Devo dire che c'è stata una forte collaborazione da parte dei gestori delle dighe idroelettriche che hanno capito la situazione e hanno rinunciato a un po' di guadagni, turbinando quando l'abbiamo chiesto e quindi mandando poi l'acqua al lago e dal lago a valle per irrigare i campi. Insomma un'operazione che è stata corale, ma una grossa difficoltà per gli elementi di partenza. Adesso c'è un tavolo permanente, stiamo monitorando la situazione, proprio questa mattina abbiamo fatto una situazione, siamo ancora sotto del 30% rispetto alla media storica, un po' di neve è arrivata, speriamo che si vada avanti così, certo è una situazione che deve essere monitorata e gestita. Ecco da questo punto di vista gli strumenti che avete messo in atto in questa emergenza come potranno servire in futuro? Penso alla regolazione del livello del lago che riguarda appunto la comunità dell'Ario, piuttosto che la situazione della gestione degli impianti a monte. Quali sono queste strategie e cosa potranno contribuire in futuro rispetto a quanto non c'era prima? Beh intanto noi abbiamo fatto una legge regionale molto importante sull'idroelettrico, sulla gestione delle dighe che peraltro ha portato ai territori dove ci sono le dighe delle risorse importanti che si vedono già adesso, i canoni, ma l'energia è gratuita, in questi territori ad esempio sono due anni che le case di riposo non pagano l'energia perché viene devoluta gratuitamente da chi la produce grazie e in forza a questa legge che noi abbiamo fatto. Questa legge regionale prevede anche che in casi straordinari come quello della siccità la regione possa imporre di turbinare l'acqua. Noi quest'anno l'abbiamo fatto con moral suasion, l'abbiamo fatto parlando con i concessionari e raggiungendo un'intesa, ma se i concessionari non avessero voluto farlo non c'era una legge che gli imponeva questo. Con la legge regionale che abbiamo fatto con le concessioni rinnovate invece noi possiamo obbligare a quel punto in queste situazioni di fare questo. Ma poi stiamo andando avanti anche rispetto a quello che è avvenuto e preso atto peraltro al punto che la risorsa acqua non è una risorsa infinita e va utilizzata con parsimonia, stiamo portando avanti una serie di iniziative che vanno ovviamente sia nell'utilizzo di sistemi irrigui che disperdono meno acqua e che quindi siano più efficienti, sia nell'utilizzo delle cave, sia in quelle che sono le competenze magari provinciali per quanto riguarda gli approvisionamenti temporani piuttosto che i pozzi eccetera eccetera. Ci sono tutta una serie di questioni amministrative che stiamo affrontando per cercare di efficientare il sistema che deve essere un sistema integrato, non può essere una sola cosa. Quindi per cercare di utilizzare al meglio l'acqua che c'è bisogna che tutti insieme coralmente si lavori. Quindi il mondo dell'agricoltura ovviamente deve fare delle azioni importanti sul sistema in arrivo ma anche quella che è la gestione, quelle che sono le autorizzazioni, quelli che sono i tempi burocratici devono essere assolutamente accorciati e devono essere coordinati tra di loro. Questa è l'azione che stiamo cercando di fare. Grazie all'assessore Massimo Sattori.